Speriamoci, io che rimango sola. Sai una cosa, per me in fondo non conta molto l'aspetto. Sul serio, voglio solo un uomo che lavori sodo, che mi ami e che mi faccia ridere. Tanti auguri. E vorrei che fosse un bravo ballerino. Irving Bar. Devo scendere. Ok. Ci vediamo stasera. Va bene. Ma dove? Ma dove? Da Amigans, alle nove. D'accordo. Ci vediamo lì. Ok, ciao. 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie 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 Tuix è senza l'aggiunta di coloranti, conservanti e aromi artificiali Tuix, croccante biscotto ricoperto da un sottile strato di caramello e delizioso cioccolato al latte Tuix, tutto il piacere della pausa Vai su Facebook e scrivi la Costituzione della Pausa A colazione c'è un cuore di cacao che ama il latte. Nati per l'inzuppo. Batticuori mulino bianco. C'è chi fa un passo alla volta e chi va il più lontano possibile. Jeep Compass Limited. Tuo a 25.900 euro. Con interni in pelle, cerchi in lega da 18 e sistema Uconnect. Fonsis, se non ti lecchi le dita, godi solo a metà.